Sono Stefania Vichi, classe 1986, Umbra. Sono qua con l'opera Lex Italica, edizione Medici. I Lex Italica sono delle pittosculture che proprio ad ottobre sono state inserite nella mia personale insieme ad altre opere e sono legati ad un concetto che porta il titolo proprio della mostra. Un titolo che mette in relazione due periodi storici differenti, il Rinascimento e il Barocco, e appunto porta il nome di Rinascimento Featuring Barocco, Loding Art. E se il Rinascimento è un proclamo alla ricerca delle lezioni del passato, il Barocco è un in allo stupore e alla bellezza. E la sintesi che ne deriva è un nuovo Rinascimento Barocco, cioè trarre insegnamenti dal passato per estrarne luce nuova nel presente. In questo modo sono convinta che lo stupore e la ricerca elevino l'uomo attraverso l'arte armata di bellezza. E le pittosculture di Lex Italica portano proprio il nome delle casate rinascimentali, delle famiglie che hanno investito in arte, portando quindi di fronte allo spettatore un esempio storico da seguire. Il classico esempio che si può trarre della storia è Lorenzo dei Medici, appunto legato all'ex italica edizione Medici, oggi in mostra. E la pittoscultura si appropria dello spazio che occupa, bypassando la tela. E la materia lavorata e contortamente mossa nella sua arzigogolata lavorazione è completamente sfuggente all'asserverimento delle regole fisiche. Si idealizza in una commissione propriamente barocca di vuoti pieni di luci ed ombre e in grado di originare quelle discrepanze sematiche ed ottiche che invitano lo spettatore addirittura a voler toccare l'opera. E in questa patina che sembra cuoio, in questa semantica di chiaro e scuri troviamo il giglio fiorentino e sei palle. Sei palle in cerchio che formano lo stemma mediceo con le classiche sei palle e infine la settima dedicata all'arte. Se un Lorenzo dei Medici non avesse investito nei propri contemporanei, ad esempio un Michelangelo, un Botticelli, non avremmo avuto le meraviglie di cui anche oggi ci nutriamo e non soltanto con gli occhi. Pertanto l'invito è proprio quello a caricarsi d'arte, a ritenere l'arte come un bene essenziale. E appunto l'Ex Italica, questa serie di pittoscultura, la ciclicità della storia di Machiavellica Memoria è l'impulso che muove il richiamo a questi stili antichi che sono forgiati in vesti contemporanei. E appunto la storia in questo si erge a maestra di vita, poiché come diceva Machiavelli tutti i tempi tornano, gli uomini sono sempre gli medesimi, quindi i tempi mutano ma il sistema sotteso è sempre lo stesso. E così l'uomo, pur adattandosi chiaramente al suo tempo, rivela sempre quelle sue debolezze in un sistema intricato e contorto, una sorta di labirinto, proprio come l'opera, dotato però di vie d'uscita che sono individuabili soltanto grazie alle virtù umane, come ci insegnava sempre Machiavelli. E quindi il sistema italiano, e non l'Ex Italica, legge italiana in stretto senso, è rappresentato come un sistema sinuoso, affascinante, quasi ipnotico, con questa sua veste barocca, ma ad uno sguardo più attento rivela tutta la sua fragilità, nella sua lacunosa, reticente struttura. E non si tratta però di una critica a fine se stessa distruttiva, ma costruttiva, perché proprio ci sono queste vie d'uscita, scorgibili soltanto grazie all'intelletto umano. E chi non si ingegna rimane intrappolato nel suo torpore, e chi con coraggio invece arguzia prova, alla fine nesce vittorioso. Quindi è un quadro che incentiva trovare la soluzione, perché c'è, è davanti a noi, basta cercarla con l'intelletto umano di cui siamo dotati. La mostra Refolded per corsi meta-artistici diventa, soprattutto in questo periodo di pandemia, un atto di fede e di speranza verso quelle discipline passionali, quali sono le arti, che aggrappandosi con volontà ad una forma di vivere come l'arte, dichiarano al mondo di voler sopravvivere. Ed è assolutamente indispensabile. Ed è un esempio da seguire, perché unendo assieme dei artisti emergenti, dichiara che la creazione dell'arte sia proprio un bene comune, da preservare e da tenere in vita nel contemporaneo. Ed è veramente una soddisfazione parteciparvi. Grazie. Grazie.